Tribunale di Matera, procedura esecutiva numero 149 del 2008, lotto A. Immobile residenziale metri quadri 140 oltre accessori per metri quadri 91, vani 6,5. Sito incontrata Sant'Agata, Montescaglioso. Prezzo base, 133.763 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 11 giugno 2015 alle ore 10 e 30. Vendita con incanto. 9 luglio 2015 alle ore 10 e 30. Luogo della vendita, studio del professionista delegato avvocato. Maria Rosaria Lella, in Matera alla via Pietroneni numero 10. Per informazioni, chiama il numero verde, info A. 800 630 663. Da lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Matera, esecuzione fallimentare numero 22 del 2011, lotto unico. Zona industriale. Sito in zona industriale di La Martella, Matera. Prezzo base, 75.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 18 giugno 2015 alle ore 10. Vendita con incanto. 17 settembre 2015 alle ore 10. Luogo della vendita, Tribunale di Matera, via Aldo Moro, secondo piano, area fallimenti. Per informazioni, chiama il numero verde, info A. 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Matera, procedura esecutiva numero 25 del 2000, lotto unico. Appartamento. Sito in piazza radice, Bernalda. Prezzo base, 55.050 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 23 giugno 2015 alle ore 10. Vendita con incanto. 14 luglio 2015 alle ore 10. Luogo della vendita, presso studio in Matera, via Alessandro Manzoni numero 6. Per informazioni, chiama il numero verde, info A. 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Matera, procedura esecutiva numero 25 del 2014, lotto unico. Quote di partecipazione del 40% del capitale sociale di società che ha per oggetto la produzione di inerti selezionati, calcestruzzi, conglomerati bituminosi, cementizi e materiali affini. Sito in superstrada 16 chilometri 420, Policoro. Prezzo base, 87.544 euro. Quota, piena proprietà. Vendita con incanto. 9 giugno 2015 alle ore 10. Luogo della vendita, presso studio in Matera per informazioni, chiama il numero verde, info A. 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Matera, procedura esecutiva numero 42 del 2007, lotto unico. Terreno bosco alto di metri quadri 750. Immobile ubicato sul predetto terreno. Sito in Policoro, Policoro. Prezzo base, 230.625 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 16 giugno 2015 alle ore 17. Vendita con incanto. 21 luglio 2015 alle ore 17. Luogo della vendita, studio in Matera alla via del corso numero 17 barra bis. Per informazioni, chiama il numero verde, info A. 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Matera, procedura esecutiva numero 74 del 2009, lotto uno. Immobile residenziale metri quadri 120,1. 7,47. Al piano rialzato di un comparto edilizio in zona di completamento, costituito da ingresso, corridoio, soggiorno, sala da pranzo, cucina, due camere da letto, due bagni, ripostiglio, veranda e due balconi. Sito inabitato di Marconia, via Ocello Lucano 10, Pisticci. Prezzo base, 86.035 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 12 giugno 2015 alle ore 10 e 30. Vendita con incanto. 10 luglio 2015 alle ore 10 e 30. Luogo della vendita, studio in Matera alla via Pietroneni numero 10. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Maria Rosaria Lella, telefono 08 35 33 12 14. Tribunale di Matera, procedura esecutiva numero 87 del 2007, lotto 1. Immobile terzo piano. Sito in, pulicoro. Prezzo base, 123.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 16 giugno 2015 alle ore 16. Vendita con incanto. 16 luglio 2015 alle ore 16. Luogo della vendita, presso studio in Montalbano Ionico via Cairoli numero 1. Per informazioni, chiama il numero verde, Infoaste, 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Matera, procedura esecutiva numero 90 del 1992, lotto unico. Appartamento piano terzo, composto da ingresso, corridoio, ripostiglio, soggiorno, tre camere da letto, cucina, bagno per metri quadri 83,89 commerciali oltre metri quadri 6,68 per due balconi. Sito in via Napoli 3, Tursi. Prezzo base, 70.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 17 giugno 2015 alle ore 17. Vendita con incanto. 8 luglio 2015 alle ore 17. Luogo della vendita, presso studio in Tursi, via Don Minzoni 38. Per informazioni, chiama il numero verde, Infoaste, 800 630 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Matera, procedura esecutiva numero 91 del 2000, lotto unico. Fondo agricolo. Sito in via Piave, Policoro. Prezzo base, 88.200 euro. Quota, un mezzo. Vendita senza incanto. 30 giugno 2015 alle ore 16. Vendita con incanto. 30 luglio 2015 alle ore 16. Luogo della vendita, presso lo studio del professor delegato in Matera, via Passarelli numero 64. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Dottor Antonio Gemma, telefono, 08 35 33 37 42. Per informazioni, chiama il nostro canale, chiama il nostro canale, chiama il nostro canale.